Ma lo sapevate che dal 4 marzo 2019 su Video Mediterraneo andrà in onda Buonasera Buonasera? Sì, lo diciamo due volte per rafforzare il concetto. Musica dal vivo, gossip, ironia, sondaggi, pareri illustri, tanti ospiti, insomma. Scopriamoci insieme dalle 19.45 alle 20.15 dal lunedì al giovedì su Video Mediterraneo, canale 11 e 511 in HD e poi sui social, su Facebook, dalla pagina Buonasera Buonasera e naturalmente su Instagram sempre stessa pagina Chiocciola Buonasera Buonasera Lo sapevate? Non lo sapevate? Vabbè, sapevatelo.